Un dì nell'età della pietra, quel tempo lontano che fu, in una caverna viveva un bambino di nome. Studiava sul libro di pietra, la carta non c'era si sa, quel libro ragazzi pesava, forse più di un quintale, chissà. E quando a scuola il suo libro portava, come pesava, come pesava, con quella pietra cucù camminava, come sudava, come sudava. Ogni sei fatti così si pesava, si riposava, si riposava. E quando a scuola il ritardo arrivava, qualche condotta il maestro gli dava. Su un grosso quaderno di pietra, scriveva ogni giorno gugu. Battendo il martello incideva, abcfghu. E quando a scuola il suo libro portava, come pesava, come pesava, come pesava. Come pesava, come sudava, come sudava. E noi bambini che ci lamentiamo, quando alla scuola i libri portiamo. Se sono pesati, allora pensiamo, al grosso libro che aveva. Gu gu!